Musica Bene, siamo vicini alla missione di Joel Marston, forse è la fase conclusiva della missione, vediamo un po' Mi sono rimesso in sesto, mi sono tenato anche i capelli, ho rasato la barba, siamo belli puliti E' un'altra cosa Sì, almeno non è il tuo lavoro Ah, fermi, Arthur Il tuo lavoro è iniziato la città, non è venuta Ma scoppa, Arthur, sono proprio bene la mia casa Lo vedo Sì, cosa dobbiamo fare, inglesi? Tu non hai tempo per me, ho cercato a trovare il lavoro, ma poi tu sei scopo con altri ragazzi e il tuo tuo figlio, Sean, non ha fatto un'occhiazione Non voglio essere un'occhiazione, è tutto Ah, sei una vera f***ing divertente, Arthur Morgan, eh? Vera f***ing divertente. Calma. Ti dovresti dormire con i tuoi occhi aperti. Sì, ma tu dovresti dormire con i tuoi occhi aperti, se non sei bello, ragazzo. Ahahahah, ti amo, Arthur Morgan. Ti amo. Vieni, prendi un gioco. Vieni, prendi il tuo migliore gioco, per favore, eh? Non c'è neanche a guardare. E poi mi arriva alla scuola, ragazze. La scuola? Non giocare con me, figlio. Non c'è nulla. E' la scuola che tu e lui c'è. C'è quello che ti faccio? Ti dovresti bisogno di pescara. Ti dovresti bisogno. Ti dovresti bisogno. Ah, questo. Quindi, Marston ti ha detto? Non c'è un grande show. Ne ho bisogno di calma. Se io prendi ti, potrei portare i tuoi. Vieni a me. 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 rest before nightfall wake up you lazy son what are you doing here kid I'm coming John on the job I said you weren't coming yeah well Arthur says I am and it's his party boy so come on let's go me and the big cheeses love it can't wait to slit some bastard's throat you sure about this? no are we ready? yeah train do through tonight all right then it's on Charles I'm ready gentlemen let's go earn some money tanto per cambiare yeah hey all the horses on tethered think so good they should follow on behind us you find a good spot wolfman go to wreck the wagon oh okay follow the trail southwest there's a spot that's remote but should still give them enough time to spot the oil wagon they see this block in the tracks they'll stop soon enough apparently picks up a new team of guards at the state line so shouldn't be too much in the way of guns to deal with see this is what I mean I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action just the action that requires a brain ha 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 you're a funny fella John Marsden they're my folks hey you had your feet up the whole time playing sick and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning you don't know what you're talking about stay close on this wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something that could put you out of commission for the rest of the year why do you have to speak so much it's cessin' boss I've still got some blood in me veins you old bastards have forgotten how to live you're going too fast I blame you two for rescuing them far too much trouble for what we got out of it yeah takes a whole army of bounty hunters to bring in Shaw McGuire they're left here towards Rhodes so anyway and look at me now in the gunner sea back in business boys you know my dad always used to say not the dad no please not this again fine damn you three sulky angry scarface a right barrel of laughs so not the tracks with the wagon then jumping that's the plan pretty much Charles you deal with the engineer John secure the passenger car fast take charitable donations and make sure everyone behaves little mister mabuire you focus on the baggage car grab any variables you can find shoot your mouth and get a bullet back so what are you doing I'll run point keep an eye out for outriders and the law and help you three where I can all right for something cherry picking I call that we'll be out in the middle of nowhere so it'll take a while for any word to get to the law but we should still move quick oi oi scarface oh shut up please we're close master we're at the railroad just carry on a bit further here's good stop the wagon over the tracks ok remember these are innocent folks we handle this right nobody needs to die alright it's a bit of ammo mr. morse mr. smith mr. mcguire ha get over there when she slows order and you I'm gonna make sure she slows let's do or die with you I like it get moving here she comes here she comes what's going on here what's going on I'm going to board make that quick and join us on there go on get on there boom ha ha all your own captain we'll go on ahead everybody stay calm get shot go everything you got money valuable I'll do anything there you go let's make this quick people come on we ain't leaving till this bag's full eeeh la borsa delle offerte no ok aspetta rapina no ok oh god oh 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 thank you I'm going to have my goddamn patience let's just do what he says so this can be ladies and gentlemen this is a robbery this is a rapina yeah you go ahead and look for the baggage car yeah tough guy huh you sure about that why are you doing it come on you should show this bitch we ain't playing around here come on come on you should show this shit we ain't playing around here everything you got money valuable ah si ecco, basta un colpo a tutti e si convincono andiamo andiamo per la verità adesso ora puoi marcare mandamenti dei nemici aspetta preso vai eh ah guardalo là eh cavolo ok un altro ma no per non marcarlo manualmente come si fa vado ancora un po' beccavo lui aspetta aspetta ok non lo posso dov'è che devo guardare ah frugano è l'armadietto ok prendi sigaro mazzo di banconote ah gioielli 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 dov'è aspetta ok poi guardiamo qui no aspetta qui basta basta qua vediamo dai calmo ok vediamo qui dentro un po' di robetta un po' di robetta si si aspetta abbiamo qua il fucile a pompa carabina di ripetizione vabbè poi leggo perchè ok ok preso ma di questo ha anche colpi veloci bene bene mettiamoli perfetto stanno arrivando altri non per dire aspetta prendiamoci un bel cosa abbiamo qui per la salute no resistenza no quello per il dead eye ecco ecco ancora è andato che è rimasto uno di qua ah è morto anche quello ok no salta sfuggi alla legge madonna la rossa è stata nascosta ok ok siccome in gta merdacce se arrivano io scappo faccio gli alberi mi sa che qua ok ok stiamo no bravolo l'albero poverino dai sali sali scusami via ok mi hanno perso il rischio ti hanno fuggito dove c'è che lo smetteranno di cercarti ok 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 siamo a metà sono dietro però dai tra poco mi sa che lasceranno perdere ok ok wow 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 that was fun boys real fun we can see what they call use the professionals in the outfit shut up atle we made some money now what did I get gotta be a hundred dollars here very nice you weren't even invited what now we still need a real big tank enough for us to get out of here was that a set up law turned up real fast I don't know I don't think so but I'm starting to get nervous think they followed us from Blackwater maybe they found me already near Horseshoe but I think this law was just locals I hope so I'm gonna head into Valentine see if I can get something started there good idea either way we should all go alone right now you know the deal don't be followed of course not boss quota la tua quota vai 200 dollari un bel po' di roba ottimo ok bene bene ho il the dice scarico praticamente posso vediamo qualcosa da poter magari usare per ricaricarlo ecco tipo ah il sigaro però consuma resistenza ma si fumiamo c'è un sigaro ma ecco oh basta una tirata e basta tutto qui vabbè ok va bene adesso vabbè è rimasto il segno della mia meta eh sono ricercato 50 dollari di taglia ecco vabbè la taglia come vi avevo detto cioè basta pagare all'ufficio postale ma bisogna per forza pagare per toglierla o boh vabbè io per ora non la pago anche perché è in questa zona qui voglio dire io devo andare qua che non ce l'ho quindi va bene così allora adesso però direi che prima sempre di Mike andrei da Abigail vediamo cosa ha da dirci bene eccoci qua all'accampamento andiamo da Abigail ho contribuito ulteriormente per migliorare l'accampamento con i soldi guadagnati non tutti ovviamente un po' me li tengo per rifornire me stesso e vediamo un po' mhm mi ha fatto un sonnellino vai dai Jack eccolo qua l'accampamento ok andiamo a pescare quindi c'è anche la pesca ok all right hold on tight so where are we going? just down to the river near here you shouldn't go too far from camp oh ok you feeling better? I know you was a little sick oh I'm fine you're a brave kid so just like you well I don't know about brave I ain't much of a kid no more though your mama might disagree there are a few other women I guess what do you mean? I'm just talking silly it's been a tough few weeks up in that snow I like the snow yes but not like that when are we going back to the other camp? the one near Blackwater? yeah well we're not this is our spot for now anyway why? I forgot a storybook there aspetta un attimo aspetta un attimo quindi dei personaggi possono avere anche delle richieste richieste oggetto per l'accampamento jack ha chiesto di portargli un libro ah penny dreadful ok andiamo vabbè quando andrò al vecchio accampamento lo prenderò per lui ok siamo arrivati ecco ecco pesca. No? Eccola qui. Voilà, è pieghevole. Repito è l'uno per accedere la ruota delle esche. Ah, e cosa abbiamo? Formaggio. Nessuna esca. Pane, pannocchia, formaggio. Formaggio è l'esche ideale per il persico dalle branche blu e la perca di scoglio. Questi pesci si trovano quasi ovunque. Vediamo. Ecco. Ah, ok, ruota per riavvolgere. Vediamo. Invece l'altro smette di richiamare la scontinenza e potrebbe spezzarsi. Ah, ok. Eccolo. Questo pesce, oleoso e granuso, chiamato anche orata o copernoso, viene tipicamente fritto in padella. Il formaggio è una buona esca che può aumentare le probabilità di cattura. Vediamo. Il persico dalle bianche blu è un piccolo pesce d'acqua dolce, spesso preda del muschie e di altri tipi di persico. Si cattura piuttosto facilmente con un'esche naturale a base di pezzi di cibo, come il formaggio. Predilige ai grossi specchi d'acqua che si trovano nei laghi e nei fiumi di tutto il paese. È attivo soprattutto nei giorni di pioggia. I pescatori dello scala del mito narrano di un pesco dalle branche blu leggendario. Pescare aumenta la salute anche. Pescare aumenta la salute anche. Ma ti posso seguire? Ah no, devo stare qua. Va bene. E allora peschiamo ancora. So che lo dobbiamo aspettare lui. Tieni premuto. Ok. Prima di rilasciare tira la canna più indietro per gettare l'amo più lontano. Pesce attirato dall'esca. Di solito la mordicchiera un po' prima di abboccare. Ma quando abboccato premo il R2. Ok. Tu hai da un po' di cose, Jack. Sì. Il pesce è sicuramente un po' di affidata, Uncle Arthur. Ah, è noioso. Sì, lo so. Un po' di affidata. Ma poi qualcosa succede. E puoi ad essere la città per giorni. Sì? Se sei riuscato. Ma fino al l'anno, aspetto, aspettate e... Cosa ti preoccupi. È buono per te. è buono per te? credo eccolo ok vediamo vediamo eccolo qua perfetto eh sì posto? dai un paio chi è? vanderlind's most trusted associate you've read the files typical case orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer agent Milton agent Ross Pinkerton detective agency seconded to the United States government nice to finally meet we know a lot about you do you you're a wanted man mr. Morgan there's five thousand dollars for your head alone five thousand dollars for me? can I turn myself in? we want vanderlind old Dutch I haven't seen him for months that's so because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass oh I hate that a little old fashioned nowadays apparently not listen this is my offer mr. Morgan bring in vanderlind and you have my word you won't swing oh I ain't gonna swing anyways agent Milton you see I haven't done anything wrong aside from not playing the games to your rules spare me the philosophy lesson I've already heard it from Mac Callender Mac Callender? he was pretty shot up by the time I got to him so really it was more of a mercy killing slow but merciful you enjoy being a rich man's toy do you? I enjoy society flaws and all you people venerate savagery and you will die savagely all of you we're all gonna die agent some of us sooner than others good day mr. Morgan goodbye enjoy your fishing kid while you still can who are they? no one to worry about no one at all come on let's pick up your things and get home it's getting late jack your mother would be worried let's head back why did you lie about where uncle dutch is? because well because those are disagreeable men and I don't want them to hurt him what did they mean about Mac? is he in jail? no I don't think so I hope he's just fine where he is like I said don't worry about them the world is full of disagreeable men that's why you got all of us to protect you from folk like them now how about that necklace you made? you still got it right? yeah I got it good did you like fishing? it was okay I think it's a lot of waiting around it is okay there you are how you boys getting on great we caught a fish and I made you this necklace ain't that pretty ain't I the luckiest did you thank uncle arthur? no need and we had a good time what's wrong? nothing just met some folk I better go speak with dutch okay hey you did real fine kid thanks we got a problem what? I just met some guys out near the river a fella named um Milton and uh I don't remember the other fella's name Ross Milton and Ross and and they are employees of the Pinkerton detective agency and they know about the train and they know we're here were you followed back here? no they know we're near here and they want you dutch they offered me my freedom in exchange they did why didn't you take it? very funny well what do we do now? I say we do nothing just yet it's just trying to scare us into doing something stupid we have turned a corner we survived them mountains we just need to stay calm ma speriamo ok ah c'è si è attivato ancora John andiamo ah in città eh John Marston John ti ha detto che stava cercando di smuovere le acque valante va bene andiamo un po' come on that's it come on come on come on come on come on